Musica Ciao a tutti ragazzi, io sono Tassi e benvenuti in questo nuovo episodio di Ulyssescraft Come vedete è una porta al cane nel mio inventario Questo perché? Perché semplicemente l'ho trovata in una piccola borsetta dei mob Di quelle robe che droppano i mob, quindi figo figo, molto bello Allora, sto un attimo facendo questi piccoli iron plate Perché mi servono per fare un piccolo, una piccola fornace Quindi aspettiamo un attimo di riuscire a farla Ottimo Andiamo a prendere tutta la roba che ci serve Quindi redstone Ok, cavi E cos'altro mi serve? Ah, una fornace No problem Le fornace le troviamo così a random noi Facciamo in questo modo Iron furnace Due di queste e una di queste Benissimo, elettronic furnace Ci mettiamo questa roba sotto Eh, è lì, ho sbaglio? Ha finito il carbone? No, non ha finito Ok Come ho già detto in un video che ho fatto mentre ci stavo muto Perché poi me ne sono ricordato Come vedete qui dentro Questo metalform è attaccato a questo generatore Non so perché ma prima mi è scoppiato Quindi ho dovuto ricraftarlo Ma la cosa bella è che Non lo so perché è l'unico che è scoppiato Quindi non ho corretto il perché E ho collegato comunque questo batbox che ho rifatto Tramite dei cavi a tutti gli altri macchinari Tranne a questo Vabbè Scopriremo Il perché Si è scoppiato anche questo Odio il fatto che sia una nuova build E non riesco a capire il perché Sia così fastidiosa Anche perché non so Quale sia il tutto Quindi Tipo Che energia devo dargli Al momento quindi Prima di fare tutto il resto Voglio Farmi una casetta Quindi Per ora lasciamo stare così Qui va bene che arriva questa energia Oggi lavoreremo un po' sulla build craft Quindi ragazzi Ci vediamo fra poco Perché vado un attimo a mangiare E a dopo ragazzi Ok ragazzi Rieccomi Allora Volevo fare la build craft Però poi è venuto in mente Che abbiamo bisogno di Cibo Quindi ci sono due vari metodi Per fare del cibo O Inizierà a farmare delle mucche Cosa che Si potrebbe fare In effetti Sì Oppure andare A fare Un piccolo impianto di legna Che mi porterà Un bel po' di mele E io riesco a fare quello Sicuramente Proprio perché Volevo farvi vedere Qualcosa di molto molto bello Che Mi piace abbastanza Di questo nuovo update Ovvero il traslocator Infatti Potremmo usare il traslocator Insieme a delle ceste Oppure altre robe Quindi vi faccio vedere subito Cosa bisogna fare E andiamo subito Allora Prima di tutto Facciamo in questo modo Allora Mi serve Ok Dobbiamo fare prima Il cart assembler In quanto useremo La steve cart Ok cart Cart assembler Benissimo Si fa con Simple PCB Più stone Che stone ce l'abbiamo Tre iron E ok Un po' di roba Allora Questa stone Poi mi serve Un po' di questa Un po' di questa E un po' di questa Ok Allora Facciamo in questo modo Facciamo Due Due di questi Ok Al contrario Mi fa piacere Che si spieghiamo meno oro Due Due E due Benissimo Due simple PCB Poi Della stone In questo modo E questo ferro Benissimo Carta assembler Che andiamo a posizionare Per adesso Qui sopra Ottimo E come vedete Abbiamo quindi Il nostro spazio Dobbiamo andare a craftare Un po' di roba Quindi facciamo Slash O Asterisk No Cancelletto Non nemmeno Chiocciola Steve cart Ok Ed eccola qua Allora Abbiamo bisogno di tutto Di una base La base Andiamo con lo standard Tool Che è quello più semplice E quindi facciamo un po' di roba Allora Ci serve Perché non ho la skin Ah Minecraft Ma intanto Va in L'offline Non fa nulla Allora Ci sono due di questi Ok Benissimo Due iron well Che vanno messi qui E poi così Benissimo Standard tool Poi Ci serve Dopo questo Un engine Tool Attachment Storage Addon Ok Presumo che mi serviranno Di diamanti Per fare quello che voglio Vero Basic wooden Cotton Eh sì Mi servono dei diamanti Non c'è qualcosa di un po' più semplice Anche il farmer Bisogna dei diamanti Mmm Al momento non ho proprio i diamanti Quindi Dovrei andare a ricercarli Ehm Cosa si potrebbe fare In effetti Ehm Ehm Potrei fare anche questi Hardner Invece di Farsi Il basic wood Così da sprecare Meno roba Sì Non sprecare i diamanti In effetti Un'ottima cosa Allora che facciamo Allora che facciamo l'hardner Facciamo Allora mi servo Ah stavo comunque Diamante Ah no posso fare questi Reinforced metal Ah Posso fare comunque il basic E beh però un diamante Rispetto agli altri Ehm Mi fa più comodo Ehm Questo qua è troppo complicato Da fare Ehm No no Posso stare Allora Ehm Vediamo Hardness Hardness Come si fa Ehm Bisogna fare quindi La bellezza A 5 Ok 5 in tutto Va benissimo Quindi Reinforced Hardner Come si fa questo Eh servivano comunque Di diamanti Quindi lasciamo stare Ehm Non è che mi convenga Più di tanto Sarebbe inutile A questo punto Farlo Ehm No No Allora Ehm Questo basic farm Abbiamo bisogno Sempre di 3 diamanti Quindi Ehm Vole a trovare dei blade Ragazzi Partiamo dal nostro progetto Iniziale Quindi fare una farm Di energia Ok ragazzi A dopo Ok ragazzi Rieccomi Allora Dopo Tanto Ma tanto Per cosa Siamo trovati Siamo trovati A questa parte Non so se C'è un spawner Lì Però ci sono Qualche piccolo C'è qualche piccolo Amico Non ho portato un arco E che Cristo Ah le api Uh Api nel nether Oh Perché c'è un cappello Ok Ok Benissimo Sono spenti tutti Andiamo ad attaccarli Veloce Ok Mi sto trasformando il loro Aia Oh Brucio a meno Ok Maggio un attimo Fatate Sì La mela Ok Allora Torniamo Nostra forma originale E sì Come ho già detto Prima Non so perché Ma non è ancora collegato Al server Sarà qualche problema Di server Nemmeno un blades E qui non c'è uno spawner Dai Nemmeno Oh Ci ho messo tanto Trovarlo su spawner Quindi Cerchiamo di non morire Così facilmente Nemmeno un blade Va bene No problem Intanto adesso li farmiamo Ok Ok Facciamo in questo modo Ne usciamo Affiamo un attimo Che spawnano Ho inserito Comunque la soul shard E ho finito anche il cibo Che bello Che bello Dai veloce Piccolo amico Veloce Dai Vuoi spawnare Per favore Ok Mi servono Pfff Mi servono Delle No invece Delle ender storage Mi servono Delle ender tank E Le ender thermic Va bene Questo Raio ender Si può fare Mi servono La bellezza Di Quattro Ok Otto La bellezza di otto Dai Le farm un po' Ahia Oh Pesso fuoco Ok Ne farm un po' Anzi no Farmolo un episodio Tranquilli ragazzi Tanto ce la facciamo A fare tutto ciò che vogliamo Dovemo tornare a casa Perché mi serve del cibo Mi sono messo a cuocere E mi sono portato Sotto Un cibetto Scarso Giusto per fare La camminata E perché mi prendo anche Danno Quando vi tocco E perché spawnate di meno Mmm Piccoli spawner cattivi Oh Qui c'è un po' di roba No Facciamo attenzione Facciamo Ottimo Eh Ti pare Cadevo sempre Ehm Dai Altri 5 Ve ne servono piccoli amici Dovete darmi un bel po' di roba Come vedete Ho messo Autorepare su questa spada Ed è molto buona Perché si ripara da solo È molto carino Come cosa Dai piccoli Dai Ok Sei A posto Altri due E possiamo già andare Con altri due Però Mentre vi da forse un altro Ricordiamo che non abbiamo La E3 E che il glitch Barra bug È stato già Aggiustato Ovvero il fatto di poter Sfruttare la duplicazione Delle Blades rod Ho assunito del fuoco No Non è questo fuoco Ok Benissimo Ancora 6 Come vedete C'erano anche Parecchia esperienza Ehm Io Metterei Io praticamente Lo porterei Dall'altra parte Lo spawner Ehm Farei così Robby Spawner Spawner Ok Lo porterei più vicino A casa mia Che in effetti è più utile Però adesso lasciamolo qua Poi lo portiamo Quando ci interessa Diciamo Quindi facciamo così Ehm Ok Abbiamo 8 Me ne servono Un'altra due Massimo Se riusciamo Anzi Questa è un'altra Se riusciamo a prenderne due Meglio ancora Uno va benissimo comunque Perché come sapete Uno nel maceratore Ce ne da due Quindi va benissimo così Soul manipulator What? Lava crystal Ehm LXP Catalizer Catalizer è figo Lo useremo Lender Printing press Ah bellissimo il printing press Vi farò vedere Ve lo farò vedere È della È uno dei pochi macchinari Della Della piccola mod Ok Torniamo a casa Ehm Come si chiama Della bibliocraft Molto molto bello Devo dire anche Ok Lo spawnerò adesso Molto distante Non si vede nemmeno dov'è Ok Non so se è notte o giorno È notte infatti Che bella cosa Ok Abbiamo del cibo Là dentro Ok Allora Cibo Tanto adesso Torneremo nel nether Ok Ehm E facciamo In questo modo Allora qui bisogna Inserirci questa roba Ehm Principalmente No mi interessa Metterlo Di questo Da questo lato Quindi del tipo Ci serve Un lava No Un Geothermal Che è stato Nerfato Per nerfato Significa Depotenziato Ok Iron Tine Della tin Ehm Quindi Tin Iron Ok Mi servono Due di quelli Quindi Ehm Uno di questo Poi Ehm Andiamo qua Dov'è Qua Ok Ehm Queste Del vetro Dovremmo avere qui dentro Benissimo Un generatore Eh Un generatore Bene Ehm Dovremmo farlo per forza Mi sa di si Dovremmo avere Ehm Non qui dentro Ma qua Il cutter Ok Dovrei Farlo Facciamo così Allora dai Recompriamo un attimo Questo era un plate Andiamo qua Facciamo Ferro E stick Ok Uno Due Uno Due Tre Quattro Cinque Ok Ottimo Quindi facciamone Otto di questi Ehm No Cinque Ne siamo Non otto Scusate Ok Cinque Ehm Che poi bastavano anche tre Se non sbaglio Vero Eh Mi sono comunque D'Aaron Fornas Ok Poi Ci sono Quattro di tin Anzi no Due di tin Ok Ehm Dovremmo avere tutto ciò Che mi serve Sinceramente Ok Item casing Poi Qui dentro O qui Ok Abbiamo questo Più Uno di questo Redstone Ci facciamo Quindi Una Ah giusto Ne siamo Uno Un altro Di questo Uno Due Tre Quattro Uno Due E uno di questo Benissimo Abbiamo una batteria Poi mi serve Una fornace No problem Se possiamo anche settare Questo meglio Qua sotto Ok Tanto non è Quelle fornace Non li usate troppo Li usate Ottimo In questo modo Iron furnace Ah mi servono Altre tre di quelle Ehm Dov'è 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 Ok Uno Due Tre Uno di questo E una batteria Benissimo Il generatore Poi Due di questi Due di questi E del vetro Ok Dov'è Termal di un generatore Che andiamo a posizionare di qui Non so quanta energia Utilizzi Quindi Penso che si vada qui Non dovrebbe dare problemi Ok Dobbiamo dargli lava Quindi andiamo a creare Le tank Ehm Nel frattempo Maceriamo questo E Dai Però Mi sa che forse Questa Questa energia Non è che sia Al massimo E Non so quanto Mi convenga Usare questi cavi Dicevante Portano troppa energia Ehm Hmm Vabbè Non uso i cavi Direttamente Potenziati Però A questo punto Io direi che Usiamo I cavi normali Ehm Facciamo così Facciamo Dai Andiamo qua Dovremmo avere Allora un po' di rubber Ottimo E un po' di tin Questo portare 2400 Le cavi d'oro Massimo Possono portare Quelle energia Quindi Forse Ci faremo Cavi d'oro Cavi d'oro Vediamo Eh Perché non va Golden cable Ehm Ok Cable Cable Ah ok Due Ne servono Ok Un'insolazione Verso due Vanno bene Ehm Eh beh Fare due Quello di due Come si fa Boh vabbè Andiamo così Dai mettiamo questi Andiamo Non dovrebbe dare problemi Speriamo Non capisco bene Il perché Di questi problemi Ora questo scoprirà Ci scommetto Eh ma Crivio Allora Lo fai apposto Scusa Non vorrei Che fosse troppo potente Oppure Una versione Beta Mmm Ho testato Non dovrebbe dare problemi Ehm Forse Questo Piccolo Coso Dal momento Dall'inserimento Di questa bot Pox mi da tutti questi problemi Quindi Non so come risolvere Probabilmente Abbiamo 8 blaze Adesso Ehi siamo un attimo Fregati A questo punto di vista Quindi Io direi Che passeremo Direttamente alle Forse le levi transformer Bisogna fare Levi transformer Boh Vabbè Ehm Insulated Quindi Team Cable Sono quelli più basilari E quindi potremmo usare Loro Potremmo usare 32 Invece questi Mi portano 128 Eh Forse per quello Ehm 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 Non so adesso Mi sa che dovrò Ricraftare Ragazzi Ok Ehm Dove sono Dove sono Le forbici Ehm Due luisi Vabbè Fa nulla Vediamo se facciamo Sette Va bene Dai Ok Dobbiamo diventare Abbastanza Corposamente Pieno Quindi Ok Andiamo qua sotto Andiamo dai Troppa energia Utilizzata Ok Così Così Vai Perchè qui sotto Non va Beh Non capisco Quale sia il problema Sinceramente Questo fa piazzare Quindi qui sotto Non parte Ehm Ok Non so perchè Tipo non li fa piazzare In modo abbastanza Normale Ok ragazzi Tra le foto Un attimo Ok ragazzi Rieccomi Sono riuscito a capire L'arcano mistero Allora Il problema essenziale E che Avendo due energie Ehm Il generatore Andava a Propagandare Ancora più energia Al nostro maceratore E a tutti gli altri macchinari Creando così Una doppia energia Che creava problemi E sovraccaricava i macchinari Facciandoli esplodere Quindi adesso Non dovrebbe esserci più problemi E allora Mi serve del copper Ok Ehm Ah facciamo così direttamente Mi serve la berza Di 246 Almeno Ok Vediamo se adesso va Ok Vedete che adesso Sono senza problemi Non mi da nessun problema Dovrebbe funzionare Perfettamente Utilizzando l'energia Nostra Batbox Spiega un bel po' Questa roba Ok no Due soltanto Ottimo Ok Abbiamo della rubber Mi sa che L'abbiamo fatto qui dentro Quindi Recuperiamola Ehm Dov'è Qua Ok Ottimo Benissimo Poi Uno di questo Bene Questi sei cavi Trasformiamo in Rubber Andiamo qua Andiamo qua Facciamo Ehm Uno due tre Quattro Cinque E sei E sei Redstone E E E Uno di Ironplate Benissimo Ok Allora Ehm Che bello Fare in questo modo Allora non è questo Questo è il generatore Mi serve L'Iron Furnace Benissimo Ehm Ok così è Ehm Iron Furnace Più questo Più due di redstone Benissimo Ci Ok Ok ragazzi Andiamo a piazzarlo Quindi Dov'è Dov'è Non il generatore Electronic Furnace Piazziamola Ok Vedete che funziona perfettamente adesso E Dovremo avere della stone Quindi facciamoci un attimo Altri di quei blocchi Anzi dovremmo averli Eccoli qua Stone block Piazziamoli Benissimo Ok adesso dovremo vedere Senza problemi Energia Poi Allora dovremo avere Dei blades 8 Bene Mi servono Un po' di ferri Perché dobbiamo andare a fare questo Ok Benissimo Aspettiamo un attimo Che finiscano di urlare ragazzi Due secondi Ok ragazzi Rieccomi Allora Preso questi 3 enderpearl Che mi servivano E quindi Ok General mondo Benissimo Allora Mi servono Mi servono Un po' di queste stringhe Per fare Delle wool Poi Ok Allora Due di questi Poi Due 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 E due Benissimo Due di questi Ok Ah due vetri Cavolo Ok Ecco devo prendere due vetri Ok Tanto ormai ho capito come fa Ok Due 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 Poi Due di questi Queste altre due Ok Poi in questo modo C'è questo? Mi sa che è l'ossidiana Ah l'ossidiana E non questa Ok Dovremmo averne un po' di Ossidiana Mi sembrava di averla Nessun problema Basta ricoperare la Lava Ok A questo lato Benissimo Vorremmo ancora dell'acqua Giusto L'abbiamo usato l'altra volta Uno Non so attacco Quanto ci vuole rompere Un pezzo di ossidiana? Uno Ok Due Tre Dai Ce la puoi fare E quattro A posto Questo episodio è un po' Brutto Per il fatto che Sono stato a sclerare abbastanza Per quella roba Quindi Ok Quattro Casa Quindi speriamo Che non dia più problemi In effetti Boh Era abbastanza strano Perché Avevo sempre usato Quei 32 In teoria dovrebbe Cioè I fili se sono migliori Non dovrebbe dare problemi E quindi era quello Fin fine Quindi fate attenzione Anche voi Se avete La experimental Penso che sia un bug Non lo so sinceramente Lo scoprirò Comunque Ho usato comunque Una versione migliorata Quindi Boh Vedremo Allora Ender tank E mi serve soltanto adesso Una ender thermic Eh Mi serviva Quella blade spawner Che dovevo prendere Quindi non prima Fallo nanna Ah Dove sono i mob Ho ricordato anche una patata Ragazzi Giusto perché Adesso la farmeremo Mangeremo tante patate Ok Questa è una piccola prova Per vedere Quale era il problema E poi ho capito Infatti che era quello Va bene Ciao amico Amico zombie Allora Vedete che lasciamo un attimo Questa roba qua dentro Questo 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 Ok Se magari però La smettono Di fare a botte Per entrare dentro Casa mia Volentieri Allora Mi serve soltanto L'ultimo blades E dovremmo essere a posto Ragazzi Ok Secondo di entrare Prima che arriva il nostro zombie A ucciderci Ok Quindi andiamo Spawner Dai Soltanto un blades Ah è rallentato Perché prima Cioè il normale Spawner dovrebbe essere più veloce Vabbè Boh Non so se hanno tipo diminuito La frequenza di spawning Questo potrebbe Può darsi Però Non ne ho idea sinceramente ragazzi Sempre stato più veloce Tipo faccio Vabbè Dai un solo blades Cioè solo un blades Solo una blades rod Ecco forse quando diventa più veloce E quando sto per inesponare Ecco infatti E niente Dai piccolo mio Oh che bello Anche la nostra spada Si è riparata del tutto C'è un diamante E un blocco di oro Può fare anche il pickaxe Qui ci sono altri No non penso Dai veloce Dai che devo fare La nostra bella pump Per recuperare tanta roba Ok Dai Ce la puoi fare piccolo You can do it Va bene Speriamo Non ti guardo WB7 Ok Una A posto Ok abbiamo tutto Quindi Casa Portale Quello che è insomma Un secchio Da recuperare subito Subito Ok Però che non sia già notte Ah beh non penso Va veloce però non così tanto Ok Qui c'è un ragno Ci diamo anche quello Oh posto 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 Allora Dovemmo messo l'ender pearl Qua dentro Quindi una di questa Facciamo così Non ci interessa Farne più di 4 Ok Eye of ender Ender infuser Obsidian Questa non so che sia Sicuramente Ok È un diamante Cavolo Ossidiana Iron pickaxe Allora iron pickaxe Ce l'abbiamo Cioè possiamo craftarlo Ok Mi serve anche T-stick Ok Poi 4 d'ossidiana Che possiamo andare a prendere E dobbiamo trovare anche un diamante Quindi Facciamo così Vado a trovare L'ultimo diamante Che ci serve per finire tutto Recupero Due secchi Dovrei avere Qua sopra Dove abbiamo i secchi Allora Qualche parte ho dei secchi Ne sono certo Posso usare anche Team bucket In teoria Quindi trovo dei secchi E Facciamo questo piccolo amico A dopo ragazzi Ok ragazzi Rieccomi Allora ho fatto Questa endermi Ender 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 Normale Ma vabbè Ok allora Cerchiamo di non cadere nella lava La piazziamo Di qua Eh vabbè però Sei stronzo Dov'è Ma è là E che vuole da me Ok andata via Andata via Ok potrei prenderla Che cavolo hai addosso Eh dieci cuori Io se C'è tipo Dieci Cinque cuori Sono Non ho un arco Eh dai però Smettila Ok allora Va piazzata Va piazzata qua Cerchiamo di non farci uccidere Ovviamente sarebbe un'ottima idea Ok Va benissimo qui per esempio E va messa in questo modo A posto Qui vicino alla lava Non deve essere forza Direttamente attivata sopra La lava Però deve essere a livello basso Ok Quindi fate attenzione a questo Benissimo E va messa Delle leve Delle leve Ok si rasmette qualcosa Di sparare Volentieri Qua va attivato E qua Ok Devo metterci anche questo Quindi Mettiamolo da questo lato Ok come vedete Sta raccogliendo già Della lava Ottimo Ok Benissimo Dovrebbe raccogliere Della lava In teoria Non so se lo sta già facendo Comunque Sì no Sta raccogliendo Ok Perché è dentro Benissimo Quindi andiamo a portare Anzi qui mettiamo un waypoint Con scritto Lava E ogni blocco di lava Che toglie Metterà della Cobblestone Quale è lì Ok Cribbio Se la smette qualcosa Di sparare E gli faccio No Perché dico troppe volte Cribbio Mi piace Cribbio Probabilmente Ok Andiamo Ucciderò quella Quella piccola stronza Ogni tanto Perché mi sta dando Proprio i problemi Ultimamente Deve morire Ok Quindi andiamo Andiamo alla nostra Batbox A inserire questo Piccolo E fantastico Ender tank Però non esploda tutto E perché qui è Ok generazione dei chunk Niente male Devo dire Va bene Penso sia un bug Grafico Ok E tadan La lava Attiva E quindi Arriva anche l'energia Qui dentro E' pieno Quindi non dovrebbe Dar problemi Ma tutto dovrebbe funzionare Senza problemi Quindi per esempio Ehm Per esempio niente Ci vediamo qui ragazzi C'era nel prossimo episodio E ciao a tutti Alla prossima Ciao Ciao ragazzi Ciao